Intervista a Vandor Freguanciale prima. Ciao. Ciao. Nessuno ha dato azione? No, sono già. D'azione? Eh, ecco. Allora, la prima cosa che mi viene in mente di dirti è ciao, sono Costanza, cosa vuoi ancora da me? Non ne posso più, capisci? Questa è la prima scena, peraltro, mi sembra. Davvero? Esatto, sì. Ma tu ti ricordi la prima scena che abbiamo fatto insieme? Mi ricordo benissimo il contesto. Prima valle, bar del barone, la montata della piazza. E più o meno la prima battuta era che cosa vuoi. Che cosa vuoi da me? Che loro hanno un rapporto molto contrastante, ma alla fine sono uniti, si vogliono bene. Sì, ma quello è proprio evidente. Ma è con Costanza più che con tutti, cioè più che con Carlo, anche perché Costanza e Carlo, gli altri mi odiano senza remissione di peccato. Facci una domanda. Che cosa avrò fatto? Perché c'è un'amnesia, cioè tutto parte nella storia. Ma con chi parli? Parli al pubblico, parli in macchina. Ma dovevi dirlo, cioè quando lo facciamo non lo dobbiamo dire. Ah, dobbiamo fare questo? Ehi, non lo sapevo, ora lo so. Sono proprio i banali meccanismi. No, ma io sono un'attrice, ti l'ho detto, anzi faccio l'attrice. Ecco, a proposito di attrice, facciamola tipo quando stai dagli alcolisti anonimi, ma a te com'è successo? Diciamo che è questo lavoro che ha scelto me. E dunque è successo veramente per caso. Sono stata molto fortunata, perché ho iniziato in maniera già molto alta, circondata da professionisti, in un film importante. Andai a Cannes con quel film. Quindi insomma, successe tutto così rapidamente. Sì. Ma dimmi di te, dimmi. Vogliamo sentire anche come è iniziato Lino Guanciale, anche detto Guancialino. L'ho detto alla fine, lo sapevo. Io mi ricordo che facevo questo laboratorio teatrale che si fa a scuola, perché il teatro non c'era neanche nella città da cui vengo io, l'Avenzano. Ecco, l'Avenzano? Sì, qualcuno ci deve nascere. L'Avenzano? A qualcuno tocca questa missione. Ma tu sei fortunato. Non lo cambierei, perché in realtà è un posto che mi ha coccolato tantissimo. Mi ha dato una dimensione da eterno provinciale che tutto sommato a me si attaglia molto bene. Perché, ecco vedi, quando dico queste cose la ricompro subito. Però è carina questa cosa che hai detto dell'eterno provinciale. Sì. Che è vera, tra l'altro. Cioè, mi piace che tu la usi come un valore e non come la provincialità di solito è qualcosa un po' di sminuente. Esattamente. E viva la provincialità. No, assolutamente. Cioè, almeno a me, io l'ho sentito come un gap soltanto in alcuni momenti della mia vita, quando proprio ho cominciato, che sembravo venuto giù con la piena. Però ormai, cioè, secondo me è un modo bello per vivere le cose, perché dai a tutta la dimensione giusta. Quando ho cominciato, ho recitato la prima volta in vita mia. Era una cosa fra le tante che ho provato a fare da ragazzino. Poi l'ho trovato in palcoscenico e ho detto, vabbè, a me però piace stare qua. È proprio raro che non ti senti a tuo agio facendo questo lavoro, non so. Sì, beh, c'è qualche motivo per cui sei fatto in un modo per cui ti senti a tuo agio facendo una cosa che a tante altre persone invece crea disagio. Sì, esatto. O almeno dicono, perché se poi invece poco poco provassero... Si sperimentano. Anche tu pensi come me che tutti possono fare attore. Tutti. O che comunque sarebbe sano provarti. Ma che c'è un film giusto per ognuno di noi, diciamo. Un personaggio giusto per ognuno di noi. Quello sì. Che non hai detto che ci assomigli, tra l'altro. No, delle volte, anzi, fai delle cose lontane da te, la cosa che è bella di tutte, no? Ma Elio ti assomiglia? Posso dire io che non ti assomiglia per niente? Ti faccio le domande e poi rispondo io le tue domande. No, non tantissimo, in effetti. Cioè, soltanto per alcune piccole cose. Cioè, anche a me, per esempio, piace andare alla ricerca delle persone con cui ho dei legami forti nati in quegli anni. Cioè, sei un nostalgico un po' a tutti i suoi mani. Un po' sì, però a tempo. Nel senso che dopo 27 minuti di nostalgia non la tollero. Non la tollero. Mi rompo le scatole, troppo l'anguore mi ferisce, quindi scappo. Ecco, dalla nostalgia scappo, che è un po' una cosa che credo Elio abbia fatto moltissimo. Però nella serie mi è piaciuto questo, in effetti. Cioè, sarebbe bello, per un momento, ritrovarmi, non tanto in una vacanza, perché ho fatto solo vacanza abbastanza orrende. No! Parliamo di questo, ti prego. Finisci, ma poi parliamone. Cioè, una così bella, per quanto accada un'apocalisse alla fine, come quella che fanno i nostri alter ego in questa storia, a me non è capitato di farla, però avrei sempre voluto fare. Ah, mi dispiace. Eh, lo so. Sai perché ti dico che mi dispiace? Perché invece io credo di non aver mai riso così tanto nella mia vita, come in quelle vacanze lì, e uso il plurale perché io ho trascorso quasi tutte le mie vacanze estive del periodo adolescenziale sul litorale laziale. Avevo una casetta al mare, i miei avevano una casetta al mare, e quindi ogni estate mi ritrovavo con le stesse persone. Ed era straordinario, davvero, è stato un periodo della mia vita eccezionale. No, io su quel litorale lì facevo le vacanze di famiglia, quindi dei ricordi legati ai cugini, vabbè, un sacco di cose. Ma di che anno sei tu? Di tante fatte con loro, 79. Ah, ok, potevamo essere amici, io 74. Vedi, non ci siamo incontrati là, porca mia, ma figurate se pensavi a me. Però ci siamo incontrati in quel provino, molti anni fa, ed è la prima volta in cui ti ho conosciuto. Ecco, anch'io. Un provino in cui eri bravissimo, e secondo me dovevano prendere te. Te lo dico, non diciamo che provino è. No, me l'hai detto da subito. Vero? Mi hai detto da subito perché sei una persona di un'onestà piuttosto rara in effetti. Sì, me lo riconosco. Fra l'altro io c'ho un ricordo bellissimo, perché ero pazzescamente teso, pazzescamente teso, come mi capita molto spesso quando devo fare una cosa importante. Non si vedeva. E meno male, ma molto perché c'eri tu, perché hai messo subito un'aria... Ma in effetti anche lì davanti al bar del Barone mi ha fatto bene, perché quei primi giorni di set un po' di angoscia ce l'avevo. Davvero? Beh, un po' sì, perché per me, dal mio punto di vista... Non dovrei farci marci su sta cosa, perché tu ti dipingi come un angosciato, ma da fuori sembri veramente... Lo sono. No, ho messo subito. ...multo padrone e in controllo di te stesso. Perché ho messo una poker face bestiale, ma no, in realtà no. E infatti lavorare con te mi ha fatto molto bene, perché i primi giorni di set li patisco molto. E poi il ruolo è, secondo me, per quello che ho fatto, insomma, fino adesso, nell'audiovisivo si dice, la cosa più difficile che ho fatto, insomma, c'è un sacco di angoscia, meno male che c'eri tu. Ma invece te la cosa più difficile che hai fatto, qual è stata? Cioè, dimmi solo se c'è una cosa che proprio pensi è stata più difficile. Sì, certo, certo, ma non appartiene al mondo del cinema, appartiene al mondo del teatro. La prima esperienza che io feci al teatro fu scioccante, per una serie di questioni. Non solo andare via da casa per così tanto tempo, ero giovane ma non giovanissima, avevo comunque 18 anni così. E fu veramente faticoso, io iniziai a fumare in quei viaggi lì. Mi ricordo che ero terrorizzata, ma come fate? Come fate? A non poter sbagliare, poi tu mi dirai, no, Claudia, c'è un modo di sbagliare anche il teatro, di recuperare. Niente, io sono proprio una che fa pasticci in continuazione, lo sai, hai lavorato con me. La prestazione, col pubblico, l'immediato rapporto con... Sarà che io non faccio come voi questo lavoro per vanità? Ci arrivate a rinquadrare il piede, sì, sì. No, però, dimmi che non è così. Cioè, quanto ti dà soddisfazione il fatto che le persone, che tu abbia un'immediata reazione da parte del pubblico? Quanto colma qualcosa che è dentro di te e che va colmato? Moltissimo. Si chiama vanità. Da un lato c'è il fatto di sentire che ti è riuscita una cosa, che la gente ci sta e questo appaga il tuo ego, ti fa sentire accettato, no? A me, però, quello che ha sconvolto quando sono stato in parco la prima volta è che ho sentito che c'era una connessione con le persone che avevo davanti. A me piace il silenzio che si crea, per cui tu senti che veramente stai insieme alle persone che sono lì. Cioè, state vivendo un'esperienza che vi unisce. Io in realtà lo faccio per quello. Ma tu negli anni 90 dove stai? Io nel 90 avevo, sono 74, quindi avevo 16 anni. Quindi 16 anni, guarda, ero proprio lì, appunto, a Lavinio. De Lavinio. Dove ti dicevo che trascorrevo le vacanze. Eppure io le trascorrevo le vacanze. A Lavinio? Villa Claudia. Mi stai prendendo in giro? Non ti sto prendendo in giro. No, no, no. Io abitavo a Villa Claudia. Certo, però nel 90 avevo 11 anni, figurate se tu a 16. Ma tu, io? Ma che sei? Ti giuro. Sì, sì, a Villa Claudia andavamo a Tortuga, a Anzio. Oddio, ma allora è vero. Sì, sì, a mangiare la pizza da boccione. E le bombe da Delizia? Certo. Davvero? Sì. Sai cosa facevamo noi a Delizia? Andavamo lì e ordinavamo le bombe. E sai che questa cosa meravigliosa dovevi dare il tuo nome? Sì. E lei, che lei chiamava fortissimo. E c'era una piazza dei ragazzini davanti, dei adolescenti. Quindi, secondo te, che nome potevamo dare? Non certo Claudia, Marco, Roberto. E non ti ridico i nomi che dicevamo. Delle cose di un'oscenità. Certo, posso immaginare. Che lei comunque chiamava a gran voce. Certo, certo. Io penso di essere innamorato 64 volte dall'estate, proprio quello del 90, sul litorale di Lavinio. Magari pure direte che passavi da là, che ne sai. Eh, ma io non ero pronta all'amore. A 16 anni non ero pronta. Io a 11 anni ero prontissimo. Davvero? Lo sono diventato meno negli anni e poi ho ripreso quota. Anche questa cosa, no? Quanto si è spostato un po'. Il livello di conoscenza del corpo altrui. No, quello proprio, vabbè. Sì, una monachella, proprio una monachella. Che meraviglia. Che carina. La ginnasta. Ecco, negli anni 90 per me sono stati molto ginnastica artistica. Negli anni 90 fallì come ginnasta. La cosa mi addolorò, sì. Cioè, il mio mito era Nadia Comaneci, capito? Non era... Ma, aspetta. No, io ho sempre invidiato che facevo ginnastica. Io facevo rugby che... Nei primi anni 90 era lo sport di risulta. Ma è stata la benedizione della mia vita. Cioè, ho ricordo anche che a me è servito mentre lavoravamo. Perché c'è tanto l'aria di ritrovare, no, amici, che magari non vedi da tanto, con cui però c'è un legame fortissimo. Ti capirà mai di fantasticare su un incontro tra te di oggi e te di 20 anni fa? Cioè, di quando avevi 20 anni, comunque 19, 16. E tu che ti diresti? E la tua è anche una domanda seria, tra l'altro. Cioè, tu vuoi che io risponda seriamente. Però lo fate a cicolare con delicatezza, cioè, non so. Guarda, sai che cosa ti dico? Io non sono una che fa bilanci, tutto sommato. Però sto molto attenta ai momenti importanti che ci sono stati nella mia vita. In cui ho scelto bene o non scelto. E allora, questo qui è l'unico, diciamo, gancio col passato. Perché poi, appunto, sono una molto... Certo. Aderente alla realtà io, quindi... È sufficiente come risposta lì? Sei stata brevissima. Mi è arrivato tutto, moltissimo. Vorrei farti una domanda altrettanto intelligente. Vai. Fatti, guardo dove hai guardato finora tu. Ma sei un genio, grazie. Non pensi che liberarti di certe zavorre ti permetta anche di liberarti di cose che sono arrivate adesso? Cioè, secondo me tutta questa inquietudine e ansia che mi hai detto e che mi ha sorpreso quando lavori, non pensi che sia frutto di qualcosa che non appartiene alla realtà, ma a un lino che non esiste più? Tu non sei affatto così. Perché ti vuoi così? Devo pagare per questa consulenza. No, è gratis. Ti do un altro abbraccio se vuoi. No, tu hai ragione. Hai ragionissimo. Infatti, alla fine non c'è niente da cambiare. Perché tanto se arrivi in un punto e tutto sommato stai bene nel punto in cui ti trovi, perché è successo quello che è successo prima. Sì. E poi ognuno, come dici tu, se c'ha delle zavorre, dei pesi, piano piano, un po' per strada, se li toglie piuttosto che cercare di tornare al momento originario in cui se li è caricati. Forse sarebbe più opportuno. Sì, no, sono d'accordissimo con te. Ma infatti per me… Anche perché è tutto a posto. Davvero. Ma stavolta è lui che abbraccio lei. Amore, già. Vabbè. No, ma devo dire, e qui chiudo, che io mi sono affezionato tanto a questo lavoro. Perché… Quindi sei affezionato un po' a Elio. Sì. Perché è uno che proprio non ci guarda più lì. Non ci guarda più. Però ogni tanto guardare, dare un'occhiata e vedere un bel paesaggio, quello fa bene. Molto bene. È molto questa maglietta… La vedete la maglietta di Clara? È molto al 1990, tra l'altro. Esatto, niente, è fatto a caso. Il caso non esiste. Gli uomini chiamano destino la loro imbecillità. Io direi che con questo… Eh? Con questo è Jessica Fletcher? In realtà è Angela Lansbury, lei. Sì. Forse possiamo… Vabbè, ciao. Ciao. Ciao Costanza. Ciao. Ciao.